Inquinamento indoor, sindrome dell'edificio malato e piante verdi e fiorite che depurano l'aria. Lucca, capitale della floricoltura toscana, ha ospitato un importante convegno tecnico-scientifico sull'inquinamento indoor e sul ruolo delle piante nella depurazione di case, scuole e uffici dagli agenti inquinanti. Per la prima volta è stato affrontato su base scientifica il tema delle piante da interni mangia inquinamento. Le più efficaci sono la dracena, conosciuta con il nome di albero del drago, il filodendro, lo spatifillo e la gerbera che assorbono più dell'80% degli inquinanti indoor, tra le piante fiorite il ciclamino, la begonia, l'aloe e la stella di Natale. Durante il convegno, promosso da Coldiretti Toscana, Assofloro, Anci Toscana e Affi, Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani, è stato siglato anche un accordo di sistema con l'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Da qualche anno, e adesso sempre più e sempre con maggior precisione, riusciamo a effettivamente misurare quanto le piante operino questo ruolo di assorbimento di anidride carbonica, che è un punto importante, e anche di purificazione dell'aria, quindi assorbimento di inquinanti, intercettazione di polveri sottili, tutti questi servizi che le piante ci forniscono, oltre a rendere l'ambiente più gradevole.